Su queste riforme e anche su altre, la riforma del lavoro, la riforma delle pensioni, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, noi abbiamo dato al Presidente incaricato la nostra assoluta disponibilità a lavorare insieme e a approvare in Parlamento queste riforme. Siamo invece, su quella che è la gestione normale, un'opposizione che deciderà di volta in volta, come abbiamo già dimostrato nel passato quando fummo all'opposizione, sui contenuti dei singoli provvedimenti. Se riterremo che i provvedimenti presentati dal Governo saranno favorevoli al Paese, noi li voteremo. Non li voteremo se riterremo invece che siano negativi per gli interessi degli italiani. C'è qualche cosa in più da aggiungere?